Stasera a Lecce una bellissima notizia. La Corte di Cassazione ha giudicato legittimi il referendum richiesti dalle regioni italiane contro le trivellazioni del nostro mare. Un momento nel quale la Costituzione della Repubblica si incarna, dà la possibilità alle nostre comunità di decidere su una grande opportunità le ricerche di idrocarburi, ma anche una grande minaccia che rischia di rovinare il nostro mare, che in questo momento è la principale attrattiva turistica di molte delle regioni del sud. Dunque noi che onestamente siamo per ridurre queste ricerche di idrocarburi, per azzerarle se è possibile, voteremo per questo referendum e cercheremo ovviamente di negoziare con il governo dopo questo referendum condizioni nelle quali le comunità che devono subire queste trivellazioni abbiano diritto di parola. Tutto qua non si tratta di bloccare la ricerca petrolifera per sempre, si tratta solo di rendere la possibilità a noi tutti di decidere come impiegare i doni che abbiamo ricevuto dalla natura del padeterno. Al prossimo episodio